Oggi è una volta di riposo, si fa un po' di nordic walking. Salita sulle piccoline di Bardolino, che sono dei pariori Criaffi, un bel panorama. E questo è il punto più alto. Quello è l'arro di gamba. L'arro di Bacchia è l'arro di Bacchia. L'arro di Bacchia è il punto più alto. Sto trovando un punto di soddisfazione ad alternare al trirunning e nordic walking. Specialmente su Sentier, fatto su Sentier. Non stress le articolazioni. Le trovo comunque allenante. Questo è un bel bosco di castagni. Ne ho visti i frecchi. Fondanella. Fondanella. Vosso. La Fondanella. lavatoie aridi in Caffi, comune di Affi, sorgente del diciottesimo secolo questo è l'insorgente e il lavatoie a presto Grazie a tutti.